Cari amici, buonasera a tutti e con grande piacere che passo questo momento musicale con voi. Questa sera un bel brano ad agio di Albinoni. Buon ascolto! Grazie a tutti! 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 Grazie cari amici, è sempre un piacere suonare per voi. Un abbraccio a tutti con affetto, Dio veramente sia con noi, ci dia la sua benedizione e ci sorrida. Ciao a tutti! Ciao!